Salve a tutti e ben ritrovati, oggi volevo provare questo gioco, si chiama Cube World, in cui ora sto scegliendo il personaggio, ora voglio Frogman, naturalmente maschio, Guerriero, Roge, due spadine, non so se sceglie il Roge o Warrior, o Ranger, Roge mi ispira, faccia, spettacolare, occhi stupendi questi, perfetto, e lo chiamiamo, come lo chiamiamo? Non sto? No, aspetta, un nome più aggressivo, qualcosa di, 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 vediamo, radioattivo, Perfetto, Crate Charter, Multiplayer World o Connected to Server, Multiplayer, Server, Multiplayer, No, sto, back, Multiplayer, Crate, Numero, 4, 4, 4, 4, 5, 5, no, non va bene, ok, allora mi tocco a giocare singleplayer, singleplayer World, Crate, questo be a number, blablabla, no, numero stupido, 5, 5, 5, 5, 6, nome, froggy, bene, pre-sweet, ora sta caricando la mappa, per del gioco, eh, Multiplayer non lo so, come si fa a giocarci, perché io mettevo cose strane, però non succedeva nulla, quindi, boh, non ne ho idea, come funzioni, sinceramente non so neanche come si salva, e questo potrebbe essere un problema, non so se salvi in automatico, vabbè, ora controllo, allora, io so i tasti base, che con F1 guardi i tasti, basta, non so altro, quindi F1 per i tasti, poi che con W, S, A e D ti muovi, mouse ti muovi e tiri le mazzate, bene, sono nato, uh, Land of Trothgar, vediamo, così si dovrebbe attaccare tipo aggressivi, San Tantà, guarda bellino, andiamo, con M si apre la mappa, io andrei subito verso la pros, verso la città, quindi, bene di qua, no, più, più di qua, perfetto di qua, ottimo, quindi questa direzione, ta 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 ta, e si va verso la città, cos'è questo? La potenza, però, deve, deve, sta, sono un ninja, o che cos'è? Le foglie, guarda, che effetto spettacolare, allora, questo gioco, ora voi direte, mmm, ma questo è Minecraft, no, notate qualcosa di diverso? No, questo è Minecraft, continueremo a dire, no, non è Minecraft, i blocchi non si rompono qui, i blocchi hanno uno stesso colore, i blocchi qui, non sono fatti da altri piccoli blocchi, sono pezzi unici, quindi questo non è Minecraft, non è simile a Minecraft, eh, ok, no, 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 non mi seguire perché giuro, no, eccoci, mi sa che sono poco morto, uh, un campeggio, e tu, chi cazzo sei, ah, ah, ok, ha ucciso l'altra persona, bene, io posso nascondermi? Nooo, maledizione, cacchio, no, anche lui può salire sopra le rocce, morirò così? Cazzo, non doveva succedere, eh, vabbè, però, dai, si trova lì, stai di cazzo, mi sono ritrovato contro un mostro a livello alti, oh, sono andato vicino alla città, perfetto allora, questa è la direzione giusta? Perfetto, di qua, non è che ho perso roba, no, non avevo nulla, ottimo, ah no, ho perso, no, nulla, perché cazzo non carica nulla, c'è la nebbia? Sì, c'è la nebbia, a quanto pare, qui ci dovrebbe essere una città, qua da qualche parte, eccola, open day, entra, perché nelle città entro dalla finestra, non da, no, una città dovrebbe essere ancora più in qua, ecco, vedi, adventure district, e dove, uh, ecco la città, manichini, qui ci sono, talk, hello, camping, in tubo war, bene, il senso, il senso, il senso, questa, ho qui c'è un manichino senza senso, beh, lullo e ho anche avvenenato, ah no, he significhé, wow, e lo ch 한국 hai chiesto qualcosa? Invece sì, qui c'è una cittadina bene io direi mappa andiamo dove posso andare andiamo di qua che mi ispira mi ispira questa direzione ok quindi ho venduto della roba e basta nel negozio probabilmente mi sono venduto anche il culo non ho ben capito cosa ho venduto che cosa sei tu oh cazzo non voglio problemi sono nuovo maledizione già all'inizio già mi stalkerano qui devo ancora iniziare a giocare nooo quello mi fa paura ma mi sta ancora inseguendo un chicken ehi ehi maledizione 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 nooo forse vanno il capo aperto per possibilità di vittoria l'attacco che cazzo è qualcosa ok c'è un furetto che mi insegue ed è anche rosso quindi mi fa il culo se combatto contro di lui maledizione maledizione non è furetto di merda cazzo hai ucciso la gallina tu cazzo va no ho finito le pozze nooo non ho più pozze della vita cazzo morirò devo correre la città no no maledizione 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 allora dove cavolo era il trade trade disti ok oh vedi cioè io non ho notato c'era un mercato grande come una casa qui ah no 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 bene te l'ho chiesto un cacchio eh da stessi box non me ne importa bomba non è che qualcosa tipo delle voce vuote formula 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 next year formula non me ne importa se non esiste roba io voglio oh wooden ringer wood boot glass oh glass come si compra? tu non so cosa serve bene adesso ho abbastanza pozioni direi vediamo tu no eh poi c'è un altro negozio qua davanti salve tu sei il solito coglione di sempre vediamo craft no m a mappa ho pigiato mappa io un fiume questa direzione sempre questa direzione devo sperare di non trovare mostri arrivare al fiume sano e salvo bene in modo da poter raccogliere l'acqua e fare le mie cavolo di pozioni nooo che cos'è per coso ok ok oh no 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 maledizione sono esploso eh ditemelo che c'era un burrone di cioè io boh c'era di burroni oh un maiale oh bene com'è l'inventario f1 crafting c sto facendo le bottiglie d'acqua io vedi f1 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 f2 f1 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 f3 f1 f1 f2 f2 f1 f2 devo aggirare lupi e trovare un posto adatto a me a